cartomanti europei la cartomanzia ha il suo mondo 0773 49 35 08 seguici su www.cartomantieuropei.com buonasera a tutti dal centro dei cartomanti europei come sempre un bacio da olimpia oggi voglio ricordarvi una cosa nuova per quanto riguarda le notizie dal nostro centro per ricevere i nostri aggiornamenti e tutte le nostre news e la nuova pagina facebook cartomanti europei è completamente nuova dove potete vi invitiamo a mettere un mi piace quindi aiutarci a far crescere la nostra pagina e proprio attraverso la pagina ve lo ripeto facebook cartomanti europei troverete tutti i turni dei cartomanti le puntate della tv tutte le nostre notizie dal centro gli oroscopi le nostre puntate speciali con i vip come al solito e come ben sapete ve lo continuo a dire dopo già già la prima telefonata di più ciao sono limpia con chi parlo buonasera mi chiamo elisabetta ciao elisabetta come posso aiutarti allora posso dare le iniziali perché riguarda un'altra persona certo come no perfetto allora io mi chiamo elisabetta non mi chiedo cos'è si sono 47 anni e sono desesci si e volevo sapere di e di empoli e di empoli 42 capricorno capricorno volevo sapere se vedi un ritorno ok avete avuto una relazione si di due anni e mezzo una relazione basata puramente sul lato fisico ok dove questa persona mi ha anche espresso i sentimenti ma dice di non volersi legare insomma ha avuto anche dei traumi precedenti insomma cioè lui ha detto che comunque un sentimento per te però ha paura del legame si 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 è una relazione libera elisabetta? si siamo tutte due separati perfetto allora tesoro da quanto tempo c'è stato questo allontanamento? da due mesi due mesi allora elisabetta come stavo dicendo poco fa non incrociare né braccia né gambe affessionate eccoci allora non incrociare né braccia né gambe visualizza il viso solo il viso non pensare a scene o momenti particolari come se fosse una foto quando lo vedi bello chiaro nella tua mente mi dai uno stop faccio tre mazzetti adesso sinistra centro destra vediamo subito tesoro faccio una stesura di coppia e vediamo quello che viene fuori in effetti ha dei trascorsi che vengono subito fuori dalle prime carte che lo portano ad essere cauto andarci un po' con i piedi di piombo però non è finita questa relazione tesoro eh come? per niente perché viene il cavallo di spade che il cavallo di spade indica una persona che magari può sembrare un libertino può sembrare un avventuriero ma in realtà è una carta che indica il superamento degli ostacoli lui che riuscirà a trovare la forza dentro di sé e riuscirà a capire qual è la giusta via da seguire perché è un uomo che comunque in questo momento non è sicuro di come su come muoversi ma ha un sentimento forte per te io non so in che termini si è espresso ma ha fatto venire delle case vabbè a modo mio ti amo a modo suo tesoro mio il capricorno che dice una parola questa frase è già tantissimo credimi però tieni da conto che lui ha fatto venire fra di voi una carta importante che è il sé di bastoni il sé di bastoni indica anche magari la voglia di costruire qualcosa che può essere relativo alla casa a una convivenza cioè lui ci ha pensato diverse volte a questo e come ti dicevo non è una situazione chiusa perché mi viene comunque dal taglio mi veniva la notizia in viaggio quindi lui si sta per riavvicinare a te come se stesse in movimento verso di te ma quindi lo vedi nell'immediato insomma allora tesoro in linea di massima io dico sempre che le carte così in genere vuol dire che valgono tre mesi quindi da oggi ogni giorno è buono ma come massimo io ti do tre mesi però guardando queste carte non dovrai sicuramente aspettare tre mesi perché lui è come se stesse già in movimento verso di te non c'è molto da aspettare io non amo dare tempistiche lo dico sempre anche a chi mi chiama in privato perché io su quello che viene fuori dalle carte ci metto la mano sul fuoco sui tempi purtroppo è una questione un pochino più delicata però ti dico che sicuramente non dovrai aspettare tre mesi perché le carte mi parlano di una rapidità nei tuoi confronti perfetto posso fare un'altra domanda? se è molto veloce che il regista già mi fa segnacci ecco allora volevo sapere se c'è la possibilità di costruire a parte di una casa una vera coppia non un rapporto basato sul fisico e basta proprio tipo fidanzamento allora ti faccio un sionno secco allora vediamo se fra Elisabetta ed E ci sarà l'inizio di un rapporto normale di coppia dammi lo stop come prima senza incrociare pensando a lui stop ok sinistra, centro, destra destra ok allora tesoro sì ma se avrai pazienza non è una cosa che avverrà nell'immediato che avverrà nell'immediato dovrai riuscire a dare sicurezza a quest'uomo e fargli capire che non tutte le donne sono uguali ah perfetto devi aiutarlo a superare le sue paure c'è tanto ancora da dire tesoro mio quindi io ti invito a fare lo stesso numero che hai fatto per prenotarti in televisione e magari chiamare me o i miei colleghi in privato per approfondire il discorso però ti dico che comunque sia il ritorno di questa persona c'è e c'è veramente la concreta possibilità di costruire qualcosa va bene tesoro? devo fare lo stesso numero che mi avete fatto voi? esattamente lo stesso numero benissimo ti ringrazio ma grazie a te Elisabetta buona serata altrettanto ciao 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 allora il tempo a nostra disposizione è già finito con il regista come dicevo prima che mi fa i segnacci io vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia vi ricordo di mettere di cliccare il mi piace sulla nostra nuova pagina facebook cartomanti europei grazie ancora per l'attenzione che mi avete dato e ci vedremo presto vi ricordo anche che cartomanti europei vuol dire che la cartomanzia ha il suo mondo ciao buona serata cartomanti europei la cartomanzia ha il suo mondo 0773 49 35 08 seguici su www.cartomantieuropei.com